Musica Perché abbiamo una visione diversa che non contempla la grande distribuzione organizzata. Volevo chiedere a voi come vedete il legame tra la vostra produzione e la commercializzazione. Quindi sarà un documento che faremo insieme e che poi noi manderemo al professor Fava che poi ha la responsabilità di mettere in pratica le osservazioni che sono date da questa zona così peculiari come voi avete descritto e ricordato. Musica Grazie a tutti.